Taranto, protagonista della Blu Economy pugliese e del Mediterraneo, e questa è l'immagine emersa dalla conferenza Economia del mare in Puglia, cultura, sport e turismo come volano per la rigenerazione delle città di mare, che si è svolta la mattina del 20 marzo presso il Padiglione Italia dell'Expo Dubai. Il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato l'importanza dei giochi del Mediterraneo 2026. Noi con l'impegno, con l'umiltà, ma anche con grande determinazione e competenza siamo in grado di accogliere qualunque tipo di iniziativa industriale, sociale, politica che sia destinata a migliorare la qualità della vita del mondo. E' per questo che abbiamo voluto fortemente l'organizzazione dei giochi del Mediterraneo, che sono delle Olimpiadi del Mediterraneo, che raccolgono tanti paesi estremamente interessanti sotto ogni aspetto. E quindi i giochi del Mediterraneo per noi non saranno solo una manifestazione sportiva, e già basterebbe, ma anche un momento di scambio culturale, di fraternità, di costruzione di progetti sul futuro, a partire dalle nostre università che stipuleranno degli accordi molto importanti, le nostre università che sono il punto di forza della formazione dei nostri giovani e che sono anche il punto di forza delle nostre imprese. La grande kermesse sportiva, continuato emiliano, si terrà a Taranto, capitale della marineria italiana, nonché città resistente e resiliente, che diventerà centro italiano per le tecnologie dell'idrogeno. Vito Caponio, senior officer dell'agenzia regionale Asset, a cui è affidata la gestione dei giochi, ha assicurato che sarà un'edizione fondata sui più avanzati criteri di sostenibilità. Il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marioni, Sergio Prete, ha rimarcato l'importanza della transizione ecologica per la nostra città, affermando che Taranto rappresenta la sfida più importante a livello europeo in materia di sostenibilità ambientale. Una città simbolo di una regione che punta a trovare nuovi mercati dopo la pandemia e la chiusura del mercato russo, come evidenziato dall'assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Dell'Inoci. La Blue Economy è una sfida che la Puglia può e deve raccogliere, puntando sulla rigenerazione delle città costiere, sullo sviluppo dei porti marittimi e su importanti iniziative sportive e culturali, che strizzino l'occhio ad un turismo sempre più sostenibile.